Ciao a tutti, in questo video cambiamo un po' il format, non sarò io a raccontarvi qualcosa ma sfrutterò questo spazio per farvi qualche domanda, anzi solo due domande. Allora la prima è come mai le banche ci spiano? Non so se avete notato ma se provate ad installare le app delle banche che vengono pubblicizzate in modo molto accentuato, se andate a controllare i permessi che queste app vi chiedono, non c'entrano molto con il fatto che si tratti di un servizio bancario. Cioè altre app tipo quelle delle assicurazioni addirittura vi chiedono appunto di fare il preventivo tramite app per avere un ulteriore sconto. In realtà se andate a controllare i permessi che queste app richiedono sono abbastanza curiosi, io ne ho selezionati alcuni e secondo me questi permessi non hanno niente a che fare con il servizio bancario in sé. Appunto vabbè lettura stato del telefono più o meno per identificarvi, poi i contatti uno può dire eh ma magari gli mando appunto la lista, mando dei pagamenti alle persone in rubrica, cose di questo tipo. Ma qui secondo me si va addirittura oltre, nel senso per esempio l'app di che banca richiede addirittura l'accesso alla lettura dei appunto sms, quindi potrebbero essere sms con codice della banca ma potrebbero anche essere sms di qualsiasi altro tipo. E questa qui appunto cambia da banca a banca, ogni banca chiede i propri permessi, quindi oltre alla lettura dei contatti personali vi chiedono l'accesso alla posizione esatta, al microfono e addirittura la possibilità di leggere che cosa avete salvato nel vostro calendario. A me sembra un po' esagerata come diciamo intrufulamento nella propria vita privata, poi il fatto che questi permessi vengano utilizzati o meno è un altro discorso, però il fatto che l'app li chieda vuol dire che potenzialmente queste app potrebbero leggere queste informazioni e inviarle a un server di terze parti. Tipo quella di Banca Intesa San Paolo chiede l'accesso alla fotocamera che potrebbe essere per il QR code ma chiede anche l'accesso appunto al calendario, quindi leggere i vostri appuntamenti, vedere dov'è la vostra posizione esatta e anche l'accesso al microfono. Secondo me sono delle cose un po' inquietanti però evidentemente la gran parte delle persone non è interessata a questi argomenti, infatti comunque le persone continuano a installare queste app. E ultima app curiosa è quella di Postepay, oltre alla possibilità di inviare e leggere sms per conto vostro, ha un permesso che non ho visto da nessun'altra parte e la possibilità di accoppiarsi con dispositivi bluetooth che avete nelle vicinanze. Questo è veramente strano come app che in qualche modo è un'app bancaria. E questa appunto era la prima domanda che volevo farvi e secondo voi è normale che le app delle banche richiedano tutte queste informazioni per farvi fare una transazione? E adesso andiamo alla seconda domanda. La seconda domanda è sulla diffusione di bitcoin e delle criptovalute nel mondo reale. Nel senso, per carità non è un discorso solo di bitcoin e criptovalute, vedo che molti esercizi commerciali anche non utilizzano per esempio PayPal come sistema di pagamenti, che è molto diffuso su internet, però sono abbastanza pochi quelli che accettano PayPal come appunto sistema di pagamento, probabilmente per gli alti costi di transazioni, non so. E ovviamente questo è un problema in comune che ha con bitcoin. Secondo alcune scuole di pensiero bitcoin non viene utilizzato perché non scala, nel senso che allo stato attuale non riuscirebbe a gestire le transazioni che le carte di credito sono in grado di gestire. E questa cosa qui è vera, però secondo me non è la causa principale, nel senso che anche con un bonifico non puoi comprarti un caffè, tuttavia le persone continuano ad usare i bonifici, quindi diciamo se ci sono commercianti disposti a utilizzare queste tecnologie sicuramente riusciranno a trovare anche qualche acquirente interessato ad utilizzarle. Per esempio in Italia c'è un ristorante a Milano che accetta bitcoin ma accetta anche Biteball che diciamo è una criptovaluta minore che ho trattato anche qualche video fa e appunto non sono mai stato in questo ristorante però è curioso che questo è uno dei pochi luoghi al mondo che come criptovaluta accetta appunto questi Biteball e ovviamente accetta anche bitcoin però appunto in bitcoin le transazioni normalmente costano abbastanza e quindi non sempre le persone sono disposte a pagare questi costi di transazione abbastanza alti. E poi vabbè un'altra obiezione che si può fare è quella, sì io posso prendere le criptovalute però le criptovalute oscillano molto e in effetti questa cosa qui è così, nel senso essendo un mercato con relativamente pochi volumi quindi le oscillazioni sono molto più alte rispetto alle valute degli stati in azione. E diciamo per questo tipo di problematica una cosa che trovo abbastanza interessante che è partita da poco è appunto una criptovaluta collegata a Steemit. Steemit ho già fatto dei video in merito però appunto questa applicazione collegata a Steemit che si chiama SteemPay quindi vi dà la possibilità di spendere questi dollari virtuali che sono in qualche modo agganciati al valore del dollaro americano appunto tramite mobile. Quindi se voi andate ad utilizzare questi dollari virtuali avete dei costi di transazione zero e anche appunto la possibilità di inviare una criptovaluta che è ancorata al dollaro quindi sostanzialmente si oscilla il dollaro, oscilla anche questa criptovaluta ma il fatto di inviare 23 SteemDollar vale sempre come 23 dollari circa e inoltre si ha il fatto che questa criptovaluta è collegata a questo tipo di social e quindi come dire in qualche modo si riesce ad avere anche un altro tipo di visibilità che non è esattamente lo stesso pubblico delle criptovalute ma se vi fate un giro su Steemit vedete veramente c'è qualsiasi tipo di personalità su questo social network. Quindi vi lascio con queste due domande, lasciatemi nei commenti cosa ne pensate quindi come mai i commercianti non iniziano ad accettare criptovalute e cosa ne pensate appunto delle banche che per farvi fare una transazione in realtà si interessano molto di più dei fatti vostri. Vi saluto e ci vediamo in un altro video. Ciao!